Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e... ho spaccato il fanale della macchina il fanale? Non è il fanale, è un vetro comunque, sono su GTA V come vedete e vado a prendere la mia auto una delle mie due pompatissime auto e naturalmente prendo la vacca dai, fumo rosso, e cammina dove andiamo, dove andiamo? drift, sbaglia ragazzi ma andiamo in giro, attenzione aiaaa oh che drift ragazzi attenzione, attenzione cambio radio, anche se non si sente si, potrei andare alla gara qua vicino qua vicino dovrebbe essere la gara costa un bel po' di soldi ma ci vado lo stesso minchia, col vetro ha rotto la macchina è ora di pazzie vediamo di che pasta sei 3, 2, 1 buono il tasso dell'acceleratore puttane andiamo questa gara la vincerò sono sicuro spacco il culo io oh, e va bene non vale così si è fermato all'improvviso quello putto stronzo prende l'effetto scia ragazzi cioè qua si va per sorpassare e contro un albero mi spingono oh eeeh poi è peggio della giostra la giostra come si chiamava va bene quel tipo di giostra quello che stavano nelle macchine ah l'autoscontro vai curva perfetta si va bene ma tutti io li prendo i i vincoli guarda quel coglione là dai dai super ragazzi sbonna la macchina fa un takedown un altro takedown come cazzo si dice quello si va quasi fuori oh muoviti coglione muoviti minchia che drift vola ragazzi vola esplode random esplode buongiorno cazzo è qua cosa c'ho in testo un grafico oi brutta stronza sembra brutto puttana se una monella ora scappo scappo prendiamo sta macchina però prima devo andare a recuperare la macchina che è espluso andiamo vai accenniti sgommata random ed ecco che la polizia già mi arriva così passi in mezzo alle macchine drift no contromano attenzione pista spero che questi gameplay di gta 5 vi piacciono se volete ne faccio altri ahhh traffico muovetevi muovetevi ecco che io come un coglione passo davanti alla stazione di polizia e la polizia mi viene non posso recuperare la macchina perduta drift 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 immenso va contro un'auto parcheggiata mi butto nella ferrovia sulla ferrovia qui ecco ora mi perdo qua dentro però anche la polizia mi perderà vai accendo le luci non si sa mai e ora non capisco un cazzo ahhh oddio cazzo è qua aiuto aiuto aiutatemi ahhh fanculo vabbè si è chiusa la portella da su aiutatemi mi sento solo la polizia c'è ancora boh ecco qua dovrebbe essere dove si faceva la missione che si usciva da qualche parte no vabbè aiuto io ho paura che passi qualche treno così a prendermi in pieno attenzione silver dx a binario 1 ecco che arrivo buongiorno non riesce a saltare scavalca ecco qua vai scavalca un'altra volta sale le scale luce giorno luce oh che è là sono schiantate due macchine e mo una la prendo io vieni fuori però prima devo andare a vedere dove sta la macchina che vuole non mi ricordo la macchina esplosa si può riprendere boh dai l'avevo pagato un casino di soldi con la macchina bassa il volume della radio vai drift venuto male di nuovo vai cammina beh questa volta non c'è la polizia posso raggiungere la macchina ecco che mi fermo così a parcheggio la portiera aperta senti datemi una macchina una delle due voi non riuscite a vedere che macchina è però ma non era questa spese se vado a fianco forse trovo un'altra macchina no non trovo niente dai basta che partiamo mi prendo questo mi accontento di questa no vabbè che col cazzo dai non serve a niente solo perchè è verde anche se non significa niente che è verdone di merda vai a prendere l'altra macchina veloce oh oh un furgone si si questo è mio nero tutto pompato la yoga minchia questo furgone ne spacca i culi beh ragazzi io scendo dalla macchina vi saluto per questo video è tutto ricordate di mettere un piace se il video vi è piaciuto e scrivete sotto i commenti quel che devo fare e ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao